e ciao ragazzi siamo qui nel video oggi ragazzi siamo tornati sul rocket league si ho preso la musica se si sente non so se si sente però siamo tornati sul rocket league siamo pronti per fare la partita quindi 3 2 1 andiamo siamo da soli perché sono da solo giocando con altre persone che non conosco e abbiamo segnato noi dopo due secondi ecco attenzione non li conosco neanche non so se sono italiane o meno ok però non stanno facendo niente si girano attorno ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale mettete la campanellina per non perdere nessun altro video questo è autogol ah no no non è autogol segnato il compagno di squadra quindi ragazzi come stavo dicendo iscrivetevi al canale mettete la campanellina con un bel like al video ragazzi voi dovete sapere che nella nottata questa notte di oggi il canale è cresciuto di più sette iscritti quindi è proprio un record grazie grazie a tutti voi grazie veramente grazie per 17 iscritti in più che ho avuto questa notte recuperati da una live di una persona fare il video ovviamente perché c'è un canale youtube e come voi sapete chi si iscrive a un canale youtube faccio il video ragazzi ora mi sono trattenuto diciamo le mie cose facendo i video sui miei amici chi dei miei amici ha il canale youtube infatti come ho fatto il video di il mio amico riccardo che ora a scuola e perché sono le 10 di mattina ho la c'è un raffreddore la tosse e non sono andato e quindi stavo dicendo sto con diciamo come ho fatto il video con lui e con l'altro mio amico francesco quindi farò il video anche su questa persona poi su un altro piccolo streamer che è a 11 iscritti di meno di noi però fa le live su fortnite mi pare sì e ieri siamo stati sette persone nella live di questo youtuber che ha 1020 iscritti quindi stavo dicendo ecco siamo stati fare cambi e ricambi di iscrizioni e spero anche attenzione però non me ne stavo neanche accorgendo 3 2 e stavo dicendo come ieri ho fatto anche il video di quel quello anche quell'altro streamer che faceva il video e quindi si è iscritto al canale grazie light deck 9 sarebbe così il suo nome e poi ragazzi ringrazio anche che farò anche il video ecco un altro piccolo è piccolo non direi un altro 1000 un altro youtuber con 1820 iscritti mi mix si chiama così farò anche il video su di lui ringrazio molto che si è iscritto anche perché si è iscritto anche lui quindi ragazzi avete potuto capire e arriva il parigi arriva il parigi arriva il parigi quindi ragazzi stavo dicendo che comunque potete capire che di iscrizioni ne hanno fatte sul mio canale e io le ho fatte su loro siamo stati cioè sono stato molto contento siete iscritti più in meno di quattro ore dalle undici fino alle due e mezza siamo stati in live siamo stati a vedere la live di questo ragazzo farò il video poi come ha detto quindi poi potete vedere tutti i contenuti magari anche migliori lì per quanto riguarda il concorso sta tosse qua per quanto riguarda stavo dicendo per quanto riguarda il concorso siamo cioè ormai siamo cresciuti di sette persone quindi non riesco a vedere chi è il trentesimo iscritto vedete anche perché non posso vedere il vostro nome perché sono dati privati anche nella dashboard di youtube studio lo youtube per i youtuber anche piccoli streamer ovviamente ovviamente non si può vedere il nome però c'è qualcuno che comunque riesce a vedere quindi farò un video metterò farò un video che comunque metterò varie opzioni e tipo potrei dire che like se volete questo dislike se volete questo quello sarà un video se ci sono più dislike non mi interessa scegliete voi e farò un video di una durata massima minima di 25 minuti massima di 30 sì come avete sentito farò questo video molto lungo che non ho mai fatto perché mi trattengo sempre sotto ai 10 minuti ma soprattutto mi trattengo sotto ai 7 o che qualcuno mi ricorda che c'è stato qualche video tipo quello di survival series della ww che ho ricominciato a seguire tutto sballato veramente abbiamo vinto magari questo ne parliamo in un altro video quindi ragazzi il video finisce qui e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao